Allora, eccoci qua papà, sei pronto? Prontissimo, Agne. Aspetta, aspetta, aspetta. Ti dico cosa faremo oggi, innanzitutto vediamo un po' il tuo look. Allora, scarpe di che marca Nike? Originale. Ok, poi pantalone swag alla Bello Figo e giubbotto rosso. Completo tutto rosso, con occhiali e cappello rosso. Let's go. Molto originale. Vabbè, ok, ok, allora, allora. In pratica oggi io ti farò cantare delle canzoni di Bello Figo, hai capito? Lo conosci Bello Figo, no? Sì, sì, com'è. È un grande Bello Figo, dico bene. Ok. Ok, allora sei pronto? Prontissimo. Quanti like per questo video? 10.000 like, ragazzi. 10.000 like, mi raccomando. Spopo di 10.000 like. Perché sennò non faremo altri video. 10.000 like, io non so che... E 310.000 iscritti. Dai, let's go, mi raccomando con le condivisioni possiamo anche iniziare. Allora ragazzi, questa qua è praticamente tutta la mia postazione. Molto disordinata perché sono sempre super super disordinato. Ma ho creato, proprio per il video intorno a mio padre, un piccolo studio qua. Non so se lo vedete ragazzi, questo è un microfono. E questo microfono verrà utilizzato da mio padre per appunto cantare le canzoni di Bello Figo. Io vi dico, condividete ora e guardate questo video all'inizio e alla fine perché sarà davvero un qualcosa di assurdo. Direi che possiamo passare direttamente a PC. 3, 2, 1, let's go. Ok ragazzi, eccoci qua. Siamo praticamente sul computer. Ancora mio padre non c'è perché dobbiamo scegliere effettivamente la canzone da fargli cantare. E avevo pensato ovviamente di scegliere Non Pago Affitto ragazzi perché è una hit ragazzi, è una hit. Ehi. Ehi. Ok, ok, ci sta davvero tantissimo. Allora, cosa dobbiamo fare? Per far rappare appunto a mio padre dobbiamo prendere la base, quindi instrumental, quindi senza le parole. E questa penso che vada bene, perfetto, perfetto. La scarichiamo subito ragazzi, la scarichiamo immediatamente. Vado qua, vai, apro il mio programmino che utilizzo per scaricare tutto. Ok, eccola qua ragazzi, scarichiamo subito il beat e passiamo subito sul programma più utilizzato di tutti quanti, ovvero FL Studio. Questo programma sicuramente ragazzi non ci capirete nulla, vabbè, io ci capisco proprio perché è da poco tempo che lo utilizzo. Ma viene appunto usato per fare beat, per fare canzoni e per fare tanto altro. Ora vedete che si sta scaricando questa base. Eccola qua, portiamola subito sul programma ragazzi e teoricamente si dovrebbe sentire tutto. Perfetto, perfetto. Ovviamente utilizzeremo l'autotune neanche a dirlo. Passiamo subito al microfono, let's go. Ok papà, eccoti qua, ti ho dato le cuffie, sei pronto? Aspetta, aspetta perché voglio inquadrarti per bene. Questo è praticamente il microfono, si vede? E qua c'è tu, sei pronto a rappare? Yes. Ok, ok, allora, allora. Tra poco ti spingerò il beat, va bene? Però ti dirò anche cosa devi dire, ok? Ok, 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 ok. Va bene, va bene, ok. Vai ragazzi, vai, let's go, let's go. Allora papà, quello che dovrei dire tu, sai qual è? Ovvero, yeah, io non pago affitto. Che sarebbe la strofa che bello figo utilizza di più, va bene? Allora, aspetta che inizio a registrarti l'audio. Aspetta, aspetta, aspetta un secondo. Ok ragazzi, questo è praticamente il programma che utilizzeremo. Non so se lo vedete ragazzi. Si chiama praticamente Audacity. Ora papà, io ti dico una cosa. Prova praticamente a parlare. Parla. Uè, uè, venga, n***a. Ecco, vedete ragazzi? Prova a continuare a parlare. Vedete ragazzi, ogni volta che... Dive mamma a fare n***a. Ok, aspetta, aspetta, aspetta. Ogni volta che lui parla, ragazzi, la traccia audio praticamente diventa sempre più azzura. Quindi vuol dire che sta registrando. Ora papà, la strofa che tu dovrei dire è... Yeah, io non pago affitto. Capito come? Allora, al mio 3. 3, 2, 1, vai. Yeah, yeah, non pago affitto. Ok, ok. Non pago affitto. Aspetta, solo una volta. Aspetta, ripeti. 3, 2, 1, vai. Yeah, yeah, non pago affitto. Ok, un altro ancora. Yeah, yeah, non pago affitto. Non gridare troppo, non te la dire al microfono e non toccare il microfono perché sennò parla le vibrazioni. Non toccarlo, non toccare. Yeah, yeah, non pago affitto. Ok, perfetto. Perfetto. Ora ragazzi, è arrivato il momento di passare al pc e iniziare a editare la canzone. Let's go. Ragazzi, ecco qua. Queste sono praticamente tutte le tracce che ha registrato mio padre. Perfetto. Ora noi andiamo a salvare quello che lui ha registrato e iniziamo a mettere l'autotune, ragazzi. Perché effettivamente la chiave di questo video è quella di mettere l'autotune. Perfetto, esportiamo. Passiamo sul nostro programma e dai, mettiamo subito la traccia. Let's go. Eccola qua, ragazzi. Questa è praticamente la traccia. Ora, ascoltiamo la canzone e vediamo un po' quando effettivamente deve parlare. Ok. 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 Yeah, io non pago affitto. Yeah, ok. Qua praticamente, ragazzi, dovrebbe partire. Ok. Però dovrebbe essere molto più veloce. Quindi dobbiamo speedarlo un po', ragazzi. Speediamola, speediamola, speediamola. Proviamo ora, proviamo ora, ragazzi. Vediamo un po'. Yeah, yeah, non pago affitto. Oh, ok. La prima storfa teoricamente è uscita. Vediamo un po', vediamo un po'. Ora, come mettere tutto l'autotune, ragazzi. Ora, apriamo questo mixer. So che molti non ci stanno sicuramente capendo nulla, ragazzi. Ma tranquilli, perché anzi, neanche io so mixare le canzoni. Quindi, se c'è qualche cantante o qualche mixer che sta vedendo questo video, sappiate che io non so praticamente fare nulla. Ora, ragazzi, dobbiamo praticamente, diciamo, pulire un po' il suono della traccia di mio padre. Quindi puliamolo un po', alzando tutti questi dati, ragazzi, ok? Alziamo, alziamo perfetto così. E sentiamo come è uscito. Yeah, yeah, non paga affitto. Sempre più pulito, ok? È molto divertente. Comunque, ragazzi, ci sta davvero tantissimo. Ora, ora, puliamola ancora di più. Anzi, andiamo ad inserire il pitcher che sarebbe un autotune, un autotune standard di questo programma. Allora, vediamo un po', ragazzi. Yeah, yeah, non paga affitto. Oh, 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 avete visto, ragazzi? Già è molto, molto, molto più pulito. E pian piano avremo il suono sempre più pulito, ragazzi. Ora, mettiamo l'autotune reale. Autotune 8.1 della Evo. Perfetto, perfetto. Chiave D, ragazzi. Aumentiamo tutto al massimo. Tutto, tutto, tutto quanto al massimo. Vai, 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 let's go, let's go, let's go. Sentiamo un po'. Yeah, yeah, non paga affitto. Ma, ragazzi, ora è strapiena, strapiena di autotune. Ci manca solamente mettere gli ultimi settaggi e praticamente abbiamo finito. Allora, andiamo a pulire il suono di nuovo. Vai, lo alziamo così, lo alziamo tutto, lo alziamo tutto, ragazzi. Non troppo, però, vediamo un po'. Yeah, yeah, non paga affitto. Mamma mia, ragazzi. Yeah, yeah, non paga affitto. Ok, 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 lo abbiamo. Ragazzi, lo abbiamo. Ok, papà, ora devi registrare la seconda traccia che in pratica fa non pago affitto. E basta, ok, senza yeah. Sei pronto? 3, 2, 1, vai. Non pago affitto. Di nuovo? Non pago affitto. Ok, un'altra con la più pulita? Non pago affitto. Perfetto, perfetto. Un'ultima volta? Non pago affitto. Perfetto, ok, ora devi fare io non pago affitto. Io non pago affitto. Ok, ancora, ancora. Io non pago affitto. Troppo veloce, un po' più lenta? Io non pago affitto. Ok, perfetto. Pure queste altre tracce le abbiamo registrate. Ragazzi, ripassiamo sul PC e fidatevi. Restate perché sta per finire tutto. Andiamo solamente a inserire un limiter. Ragazzi, ci siamo. Teoricamente abbiamo tutto, ragazzi. Forse abbiamo tutto. Vediamo un po', vediamo un po'. Yeah, yeah, non pago affitto. Ok, ok, a posto ragazzi. Terminato il suono. Ora, ovviamente, dobbiamo fargli appare tutte le altre strofe perché non finisce così. Vi sentiamo in un secondo. Let's go, let's go, let's go. Ah, ok, prima, deve partire prima. Ok, 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 ci siamo, ci siamo. Yeah, yeah, non pago affitto. Oh, oh, oh. Non pago affitto. Ok, ok, continuiamo a registrare altre tracce. Let's go. 3, 2, 1, vai. Non pago affitto, yeah. Di nuovo. Non pago affitto, yeah. Lo yeah è un po' più lungo. Non pago affitto, yeah. Ok, ok, uno un po' più forte. Non pago affitto, yeah. Perfetto, ragazzi, ok. Passiamo subito al PC. Abbiamo quasi finito, dai. Ok, ragazzi, ecco la seconda traccia. Perfetto, la salviamo come sempre. E andiamo ad unirla. Ormai c'è già l'autotune, quindi è tutto automatico. Non dobbiamo rimettere i stessi settaggi. Andiamo un po' ad agganciare le clip. Sentiamo come fa. Yeah, yeah, non pago affitto. Non pago affitto. Mamma mia, ragazzi, sta uscendo la canzone. Sta uscendo tutta la canzone, ragazzi. Questo è un qualcosa, è un video davvero assurdo, ragazzi. È un qualcosa davvero fantastico. Io non pago affitto. Questa è la seconda strofa, ragazzi. Perfetto, perfetto. Allora, allora, allora. Per ora è uscita così. Sentiamola. Yeah, yeah, non pago affitto. Non pago affitto. Io non pago affitto. Di nuovo qua. Va messa di nuovo, quindi. Yeah, yeah, non pago affitto. Non pago affitto. Ok, prima, 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 molto prima, molto prima, molto prima. Pago affitto. Io non pago affitto. Non pago affitto, yeah. Ok, sei da l'altra traccia. Andiamo subito, let's go. 3, 2, 1, vai. Tutti i miei amici sono venuto qua là. Un po' più forte. Tutti i miei amici sono venuto qua là. Un po' più forte. Tutti i miei amici sono venuto qua là. Ok, perfetto. Ok, ragazzi, è passato un bel po' perché abbiamo registrato davvero tantissime tracce e questo per ora è il risultato, ma ancora non è finito. Buon ascolto. Secondo me spacca, ragazzi. Però ancora dobbiamo continuare, ovviamente. E aggiustare ancora un po' di più la voce. Yeah, yeah, non paga affitto. Non paga affitto. Io non pago affitto. Let's go. Non paga affitto, yeah. Io non pago affitto. 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 Tutti i miei amici sono venuto qua là. Ok, ragazzi. Questo per ora è il risultato e devo dire che è davvero, davvero soddisfacente. Ragazzi, non sono un mixer. Cioè, io non lo so neanche usare benissimo questo programma. Però dovete essere sinceri che un minimo ci sta, ragazzi. Ci sta un bel po'. Ora però, visto che è inutile continuare ancora, ragazzi, perché se no la canzone durerebbe troppo, direi di postrarvi appunto il risultato finale con le scene, con le clip e con tutto quanto, ragazzi. Buona visione. Let's go. Yeah, yeah, non pago affitto. Non pago affitto. Io non pago affitto. Non pago affitto. Yeah, yeah. Io non pago affitto. Non pago affitto. Non pago affitto. Non pago affitto. Tutti i miei amici sono venuto qua là. Barca. Zouette. Barca. Appena arrivato in Italia. Abbiamo. Casa. Machina. Yeah, yeah, non pago affitto. Non pago affitto. Io non pago affitto. Non pago affitto. Yeah. Io non pago affitto. Non pago affitto. Non pago affitto. Non pago affitto. Non mi sfoca le mani. Perché sono già nero. Sono profugo non bono. Non bono. Profugo rico. Yeah, io non faccio praio. Non faccio praio. Io non faccio praio. Non faccio praio. Yeah. Grazie a tutti